Nuovi ritocchi alla Chiesa dei Santi Apostoli di Nola. Era stata aperta al pubblico lo scorso ottobre dopo i restauri realizzati nell'ambito del progetto Progreditor. E ora la Chiesa Paleocristiana torna sotto i riflettori grazie alla Banca Popolare Vesuviana di Nola e l'Istituto Finanziario IFIR che hanno deciso di contribuire ai lavori per far tornare l'organo ideato da Domenico Vaccaro nel XVIII secolo all'antico splendore. Ascoltiamo Enrico Pisano, direttore generale della Banca Popolare Vesuviana e il vice direttore Gianni Ruzza. Oggi il futuro della banca è l'essere una piattaforma di servizi, quindi non più la vendita di prodotti ma la costruzione di prodotti e servizi necessari allo sviluppo del territorio, a finanziare le aziende, le famiglie. Il nostro impegno è quello di aprire una sottoscrizione con un conto dedicato chiaramente gratuito nella nostra banca filiale di Nola dove anche la sede della vice direzione generale per poter in tre mesi contribuire al rifacimento dell'organo in pieno 700 dell'architetto Vaccaro. Supportare imprese e famiglie e fare sinergia è questo il modo per far crescere le imprese del territorio. Ce ne parla il presidente dell'IFIR Antonio Izzo. Noi ci prendiamo pensiero dei crediti dell'impresa e cerchiamo di rendergli liquidi, cerchiamo di rendergli fruibile la parte finanziaria del credito che molte volte, specialmente nei confronti della pubblica amministrazione, hanno delle caratteristiche di poca liquidabilità.